Noi stiamo iniziando a scherzare un po' troppo col fuoco ragazzi e attenzione perché quando poi inizi a giocare col fuoco ti bruci perché la Juve non sa più vincere ma Juventus non è più in grado di vincere E' anche l'unica partita che ha vinto da quel 25 di gennaio no di febbraio cos'era quando abbiamo pareggiato con l'Empoli è stata una vittoria vuota che mi aveva fatto dire io non credo che sarà l'Eletroshock ma è l'unica cosa che posso sperare è questa roba qui L'Eletroshock non è mica arrivato perché tra Napoli e Atalanta ragazzi abbiamo una media da retrocessione in questo momento Cosa abbiamo fatto? 9 punti nel giro di ritorno 12 punti 9 partite una roba simile magari domani andrò a leggermi meglio le statistiche ma non cambia niente Cioè rimane il fatto che la Juventus sia una squadra che in questo momento non è una squadra non è una squadra E mi dispiace perché è l'ennesima partita fatta così cioè purtroppo sono partite fatte con lo stampino oltre al fatto che il Milan in questo momento ci ha pure superato in classifica Cioè siamo passati da... non voglio neanche tornarci sopra siamo anche terzi no in questo momento siamo pure terzi Però ragazzi sono partite fatte con lo stampino cioè il primo tempo è stata una roba angosciante E' la terza se non la quarta partita di fila in casa che a fine primo tempo lo stadio fischia la Juventus E lo fischia giustamente la fischia giustamente Perché tra Atalanta, Udinese, Frosinone non mi ricordo se a fine primo tempo ho fiscato anche con l'Empoli Dicevano di no prima in live non mi ricordo però ragazzi non cambia Cioè sono partite che la Juventus fa male non è mai efficace in niente non è possibile che la volontà della Juve sia Addirittura passare da o dal portiere o da Bremer o da Locatelli a scavalcare la linea di centrocampo sempre agli avversari o la linea difensiva E andare a lanciare sull'attaccante Oggi abbiamo lanciato cento palle lunghe su Chiesa Oh ma cento palle lunghe su Chiesa Abbiamo lanciato Ragazzi ma possiamo sperare di fare gol con una roba del genere Possiamo provarci Andiamo in svantaggio Un primo tempo inguardabile Perché il primo tempo è inguardabile Prendiamo un gol perché loro sono furbi E' una partita da 0 a 0 nel primo tempo Anche l'Atalanta L'Atalanta non ha fatto una gran partita E' questa roba che mi lascia un po' Con l'Avaro in bocca L'Atalanta oggi non ha fatto una gran partita Non ha fatto una gran partita E non la vinci lo stesso Il Napoli non aveva fatto una gran partita E l'ha vinta Cioè le squadre contro di noi Fanno delle partite o normali Se sono delle squadre come l'Atalanta o il Napoli O delle partite che vanno oltre le loro possibilità Come l'Udinese, l'Empoli, il Frosinone E portano a casa i punti E' un pareggio che non ci serve a niente Questo qui E' un pareggio che alla Juve Francamente porta poco Guardate Dobbiamo guardare il minimo Guardiamo il minimo sindacale Un punto recuperato sul Bologna Evviva Vai così Un punto recuperato sul Bologna E dobbiamo metterci a fare questi discorsi qui Cioè a me sembra folle Mettersi a fare questi discorsi qui Dobbiamo festeggiare un punto preso sul Bologna Stasera aprirò una birra E mi farò una birra festeggiando questa roba qui Ragazzi ma che agonia Che agonia Che agonia E poi vi dico Secondo tempo Secondo tempo Che La Juventus prova a tornare in campo Ad aumentare un pochino Il baricentro Invece che stare lì bassa E facciamo due gol Nel giro di quattro minuti In cui negli altri quattro minuti prima Ci sono state altre due occasioni importanti Due a chiesa Una in fuorigioco E una che incrocia male Col sinistro Però Quattro Cinque palle gol Le avevi create Perché ne è andate in avanti Fai gol Due a uno Fai gol Fai gol Uno a uno Fai gol Due a uno Chi si è visto Si è visto Ci abbassiamo Basta Eri già in vantaggio Che senso aveva Provare a chiudere la partita Magari in un momento di inerzia positiva Dove l'Atalanta Hai visto che poteva soffrire E tu riuscivi a creare Palle gol con costanza Torniamo indietro Torniamo indietro Ci mettiamo lì E ci abbassiamo E speriamo di non prenderlo più E poi con Meners Si infila Scesne Rivedibile Sul tiro Però ragazzi Dopo Allora Ogni singola occasione Diventa Troppo importante Ovviamente Se su due a uno Finisce lì Ogni minimo Spiraglio Ogni minimo errore Diventa fondamentale Per i fini dei risultati Purtroppo È l'ennesima partita Da dove con lo stampino È all'interno Della Ligri 2.0 È l'ennesima partita La Juve In cui la Juve va sotto E non riesce a ribaltare Purtroppo E ribadisco La cosa che da noia È contro Un'Atalanta Che era in difficoltà Dal punto di vista Del rendimento Nelle ultime partite Era in difficoltà Non riusciva a portare a casa La vittoria Ha giocato con Lukman E con Deron In panchina Che sono state Le scelte di formazione Secondo me Anche abbastanza rivedibili Eppure Eppure noi siamo riusciti A far peggio Cioè noi siamo comunque Riusciti a far peggio Portiamo a casa Sto 2-2 Portiamo a casa Sto punto E siamo ancora Fermi lì All'interno Di una stagione Che in questo momento Dice terzo posto Col Bologna Dietro a 7 punti E cosa vi devo dire Che analisi vogliamo fare Sulla partita Io poi Non ho francamente Nemmeno Compreso i cambi O la gestione Dei cambi Cioè Il dissera pronto Stava entrando Fa gol cambiaso Allora non lo mettiamo più E allora Mettiamo Ken Che poi fa gol Milik Però allora Milik Lo teniamo lì Non lo togliamo più E dopo non facciamo i cambi E allora entra solo Wea Mechanic ha fatto Due assist La solita prestazione Di livello di questa stagione Aveva Ha giocato con un tutore E noi lo tenavamo lì Fino all'ultimo A un certo punto Facciamo i cambi Mettendo dentro Alexandro Allora io ragazzi Inizio a pensarlo Che Allegri Voglia per forza Di cose Far fare a tutti i costi Il record ad Alexandro Perché cambiaso Che era Stato uno dei giocatori Più positivi Della Juventus In quel momento lì Che senso aveva Toglierlo per Alexandro Magari era stanco Boh Non lo so Magari ha chiesto il cambio Non ho idea Però Sono cambi Che francamente Mi fanno venire Il latte alle ginocchia Ildis Ildis lo mettiamo A 4 minuti Dalla fine Più recupero Cioè non mi sembra Che la Juventus In questo momento Sia una squadra Che può permettersi Di ragionare Di tenere fuori Un giocatore come Ildis E fargli fare 4 minuti Più recupero Poi magari Sbaglio io La valutazione Però a me sembra Che la Juventus In questo momento Sia una squadra In difficoltà Che ha bisogno Di tutti i giocatori Più forti in campo E che già fa fatica Perché non ha idee Non ha concetti Va sull'esterno Le cross Oppure lancia la palla Direttamente Sull'uomo più avanzato Però quando si alza E quando si gioca La palla sui piedi Abbiamo visto Due o tre uscite Fatte bene E sono solo quelle In cui l'eventus Si è resa pericolosa Però le andiamo A ridurre Le andiamo A comprimere Le riduciamo Sempre al minimo Allora forse Ci va bene così Allora forse Ci va bene così Allora forse Va bene Fare una terza Stagione mediocre Con Allegri Quarta stagione mediocre Per la Juve In cui l'importante È solo qualificarsi Alla Champions League E se poi Queste partite Succedono nel mezzo Questi momenti Succedono nel mezzo Se l'eventus Per 40 giorni Diventa una squadra Che perde O comunque non vince Con chiunque Va bene Perché tanto L'importante Può arrivare In Champions League Però posso dire Che non mi piace Posso dire Che non è una cosa Che mi rende felice Orgoglioso O contento Da quant'è Che non vinciamo Una partita Fatta bene Da quant'è Che non vinciamo Una partita Che ci mettiamo qua E diciamo Oh Sai che L'unica che abbiamo vinto L'abbiamo vinta All'ultimo respiro E poi andiamo a replicare Eh sì Se Rugani Facceva la gol Anca a Napoli Eh vabbè Se mia nonna Aveva tre palle Ragazzi era un flipper Eh se oggi Ken faceva gol All'ultimo Che va bene Era anche in fuorigioco Cioè non è che possiamo Metterci qui A contare le occasioni Solo all'ultimo secondo Ma cavolo Le partite durano Cento minuti Ma perché non Non entriamo in campo Pensando di poter vincere La partita dall'inizio Perché ai primi tempi Li buttiamo via Ci facciamo fischiare Dallo stadio Ma perché Ma davvero Ma perché Ma queste cose qui Non Anche un po' di orgoglio Personale Non lo vogliamo tirar fuori Va sempre solo bene così Beh allora Andrà bene così Allora la prossima Col Genoa Facciamo un altro punto Sai Un altro punto Pian piano Facciamo dieci pareggi Altri dieci Mancano dieci partite Facciamo altri dieci pareggi Facciamo dieci punti Siamo qualificati in Champions E siamo tranquilli Però ragazzi Non è una bella roba Che non è una bella roba Se ci mettiamo qui Ma sai che alla fine Il punto con l'Atalanta No ragazzi L'Iventus doveva vincere L'Iventus è stata scavalcata E la Juventus ha tutto l'interesse del mondo A migliorare la posizione dell'anno scorso La Juventus ha tutto l'interesse del mondo A arrivare seconda Per qualificarsi alla Supercoppa Senza voler passare dalla Coppa Italia Per prendere più soldi Ma anche banalmente Perché sei stato secondo per tutto l'anno Invece adesso Guarda cosa succede Anche questo Milan disastrato Gli ha superato Gli abbiamo fatto mangiare Dieci, quindici punti Quanti gli abbiamo fatti mangiare Al Milan nel giro di quaranta giorni E il Milan non è la squadra più forte del mondo È una squadra che ha avuto Delle difficoltà in stagione Quindi c'è tanta amarezza Cioè non c'è neanche più la rabbia da parte mia C'è solo tanta amarezza Un'altra partita Poi c'è la pausa nazionale Vediamo cosa succederà Però sinceramente Non la vedo bene Non per la qualificazione Champions Perché ripeto Nei Parigi altre dieci Nei prossimi dieci Ti qualifichi Però ragazzi Bisogna anche tirar fuori un po' di orgoglio Un po' di fuoco Perché Alla Juventus La roba al minimo Io non la posso accettare Non la voglio vedere Che c'è ancora gente qua che mi dice Eh sì però no Che colpa ha la Juventus Se l'Inter vince lo Scudetto Deve fa così forte Ragazzi qua i problemi sono diversi Qua i problemi sono altri I problemi della Juve non è che non vince lo Scudetto In questa stagione Mettiamocelo bene in testa Vabbè Arriveranno tempi migliori Ne sono convinto Ciao